Siamo sul cantiere di quest'area attigua alla San Michele delle Grotte e stiamo dando l'avvio ai lavori di sistemazione di quest'area fatta attraverso questo strumento che è l'Art Bonus un Art Bonus che è stato colto come opportunità dalla Banca Popolare di Puglia Basilicata abbiamo stamattina con noi il Vice Presidente è un intervento che tra massimo 60 giorni sarà inaugurato e restituito alla città è un luogo che è stato da sempre quello che gli urbanisti considerano un vuoto urbano che finalmente riusciremo a restituire alla città e al quartiere e questo mi sembra il migliore auspicio per dare veramente questo messaggio di ripartenza in positivo per tutta la città Allora siamo qui oggi per riprendere i lavori di sistemazione dell'area antistante a San Michele delle Grotte Questa è una bella operazione che insieme al Comune e Banca ha voluto portare avanti con il sistema dell'Art Bonus e quindi oggi riusciamo a riprendere il cantiere che fermo per il problema Covid-19 e quindi possa essere oggi una bella ripresa e un auspicio di normalità per la nostra comunità La banca da sempre è vicina al proprio territorio e con queste testimonianze e con queste operazioni vuole appunto essere vicina al proprio territorio e fare fungere proprio da sostenitrice e quindi volando di sviluppo per il proprio territorio, per le proprie famiglie, per le proprie imprese Siamo qui accanto all'epogeo di San Michele per la realizzazione di un'area verde a servizio del quartiere che è molto rappresentativa in questo momento Era stata pensata già da qualche tempo grazie anche alla vicinanza della Banca Popolare di Puglia e Basilicata che ha voluto finanziare questo progetto con il primo Art Bonus in questa città Un'azione da mecenati che permette di avere in un'area densamente edificata un'area verde Per noi rappresenta molto oggi questo cantiere perché rappresenta anche il momento di una ripartenza attraverso un luogo che sicuramente rappresenta la socialità Spero di poter consegnare questi lavori poco prima, spero che ci riusciremo Grazie